Ciao a tutti dalla vostra Benedetta Parodi, siamo qui per la ricetta primaverile. Ho pensato di utilizzare per questa ricetta del filetto di platessa che intingeremo in una salsa preparata prima. La salsa è composta da salvia tritata, frullata insieme ad un uovo, un'acciuga, del vino bianco chardonnay del Sudafrica e pecorino e un po' di farina. Prenderemo un pezzo di questo filetto e lo impaneremo con il pane grattugiato e lo metteremo direttamente in padella. Se la ricetta fa schifo non vedrete il video, altrimenti vuol dire che vale la pena provare. Ciao!